L'Abruzzo sfodera un'altra carta per l'Expo 2015. A susseguirsi a Milano, nella vetrina mondiale del food, ci saranno anche i borghi più belli d'Italia. L'Abruzzo ne porta con sé dieci, che mostreranno le loro eccellenze, le tradizioni e le peculiarità. Caramanico Terme, Città Sant'Angelo, Penne, Scanno, Abbateggio, Bugnara, Castel del Monte, Castelli, Navelli e Santo Stefano di Sessaneo, tutti pezzi d'orgoglio nostrano. Per l'Abruzzo saremo a luglio, una prima tornata e poi una seconda tornata a ottobre e in quella occasione cercheremo di far conoscere da vicino quelle che sono le nostre particolari capacità, sia nel termine delle produzioni tipiche, ma soprattutto della bellezza dei luoghi. Noi confidiamo molto nell'Expo di Milano perché siamo prontissimi, in quanto noi siamo certificati come borghi. È una vetrina importante, straordinariamente utile per far capire al mondo intero le eccellenze che noi rappresentiamo. Si è pensato anche a trovare una partnership per limitare i costi e garantire tutta la visibilità utile ad attirare il turismo e la curiosità internazionale in Abruzzo. Avendo fatto questa partnership con Italy, diciamo il tutto diventa più accessibile. Ma è una sfida importante perché parliamo sia di comuni più grandi come Città Sant'Angio, come comuni più piccoli di 350-400 anni. Insomma, veramente è una bella sfida che mette in sinergia anche la voglia di farsi conoscere a livello mondiale.